Siamo pronti con le campane, possiamo partire? Siamo pronti, l'estate 2021 è finita, è andata bene, è andata molto bene, la stagione è stata calda, non ha piavuto, poca pioggia a luglio, ha piavuto settembre ma era un po' troppo tardi, siamo carichi per iniziare la nuova stagione. Invernale in pianura. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti